Fortuna che c'è Zaza, fortuna che c'è Zaza che mi dà la possibilità di scatenarmi come una bestia, da un certo punto di vista ovviamente sempre con il massimo rispetto per dire, però quando poi ti imbatti in certi articoli, in certe narrazioni dove attenzione in tutto questo qualora magari fosse vero ma ci arriviamo tra poco, ci sarebbe la possibilità per la Juventus di correre dei rischi visto che potenzialmente si potrebbe anche trattare di mobbing ma ne parleremo appunto tra poco, dici alt, capisco l'essere di parte, capisco voler indirizzare dal punto di vista mediatico la trattativa in una certa maniera però mettiamo quantomeno i puntini su lei, facciamo delle precisazioni che allo stesso tempo ci fanno capire come la classe giornalistica, quantomeno a livello sportivo, anche se il discorso si potrebbe poi ampliare a livello generale sia abbastanza bassa, abbastanza scadente no? però prima di entrare nel merito ragazzoli belli come al solito io vi invito a lasciare un bel mi piace, di sostegno, di supporto, una roba come sempre meravigliosa nonché giusta in tutto questo consentitemi anche di dire e mi raccomando se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale perché qui ogni tanto poi possono uscire anche delle perle come queste qui perché oggi tale splendore giornalista del Corriere dello Sport che con tutto il rispetto del mondo vedendo il tenore dell'articolo probabilmente più di nome che di fatto ma è un altro discorso e va benissimo, ha parlato ovviamente dell'operazione sulle e bla 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 come ormai un pochino tutti quanti da una settimana a questa parte facendo legittimamente vedendo che è a tutti gli effetti una trattativa ancora in piedi anche se si diceva che entro la mezzanotte di ieri sarebbe scaduta l'offerta della Roma di 28 milioni bonus compresi anche se sappiamo benissimo tutti quanti che la richiesta della Juventus è quanto meno di 30 garantiti ma vabbè e oggi sul Corriere dello Sport e finalmente il Corriere dello Sport è tornato a fare il Corriere dello Sport a differenza di ciò che ha fatto negli ultimi mesi anche se magari vedendo i risultati che la Juventus faceva sul campo col senno di poi tutto quanto estremamente più chiaro ma di dubbi ce n'erano pochi anche prima ma vabbè parlando di un retroscena Giuntoli ha preso su lei l'ha messo lì in disparte facendogli una sorta di minaccia o accetti di andare in Premier League o vai in next gen meraviglioso cioè che poi intanto pensi no c'è una fonte del Corriere dello Sport siamo in una botte di ferro sul fatto che sia una cagata anche perché se il direttore stesso una volta finito il campionato si presentava nei vari salotti televisivi a dire Giuntoli mi ha promesso che non ha mai parlato con Tiago Motta e nonostante Giuntoli all'interno del mondo sportivo lo si chiami Pinocchio io questa volta voglio fidarmi di Giuntoli per poi due giorni dopo vedere in prima pagina l'accordo tra Giuntoli e Tiago Motta qualche giorno dopo Tiago Motta che durante il road trip alza la posta e adesso chiede 5 milioni a differenza dell'accordo precedente poi sappiamo benissimo che Tiago Motta percepirà 3 milioni e mezzo tra le altre cose dando allo Juventus la possibilità di usufruire del decreto crescita ma vabbè se il tenore delle fonti dei giornalisti del Corriere dello Sport è questo qui siamo proprio in mani non tranquille di più solo che qui poi si passa proprio a livello successivo no? magari già la questione legata a Zazzaroni Giuntoli magari sono le fonti magari in questa circostanza quella diretta di Cristiano Giuntoli vedendo una conoscenza tra i due ha fatto una sorta di depistata e tanti saluti robe che tra virgolette fanno anche parte del gioco ecco magari dirlo a inizio giugno fa parte comunque di un gioco di Narnia che tutti sapevamo benissimo a grandi linee come sarebbe andata la storia tra Tiago Motta e la Juventus ma vabbè però poi quando si toccano questi temi con appunto no? qualora fosse vero il potenziale rischio di mobbing da parte della Juventus nei confronti di Mattia Sule quantomeno non sarebbe male buttandola lì informarsi sulla questione legata al regolamento perché i giocatori per poter fare la next gen devono rispettare determinati parametri a livello di presenza per fare magari noi playoff a livello di presenza e di minutaggio mi pare che si parli di 25 presenza e non superiore ai 30 minuti una roba di quel genere lì però in linea di massima dato che no si è parlato di Sule che se non accetta la premier in next gen il Sior Splendore speriamo sappia che un giocatore che ha superato le 50 presenze in serie A non può andare in next gen Sule ne ha fatte 51 porca miseria quindi proprio a livello di regolamento Mattia Sule non può andare in next gen che poi al di là di questo no? che può essere potenzialmente più che sufficiente e va bene abbiamo appurato che sia una cagata e tanti saluti adesso si parla di Sule alla Roma per 30-35 milioni bonus inclusi magari l'idea iniziale era quella di fare 40 milioni va bene a grandi linee però sappiamo la valutazione che la Juventus fa del giocatore e la valutazione che presumibilmente la Juventus andrà a percepire da un altro club che sia la Premier League che sia la Roma per il giocatore e siamo a posto qualora no? appurando che andrà effettivamente così come annunciato dal Sior Splendore la Juve mandi Sule in next gen anche proprio a livello di materiale umano che è a disposizione cioè Sule a quanto lo vendi magari no? tra un anno? dopo un anno di next gen? sempre 30 milioni? non lo so cioè quindi è veramente un discorso che fa acqua proprio da tutte le parti e potenzialmente qui mi piacerebbe vedere sono sincero un bel comunicato ufficiale della Juventus dove scrive fondamentalmente dove va a sputtanare il giornalista che ha partorito una roba di questo genere perché dici alt adesso va bene tutto quanto va bene cercare di mandare avanti un certo tipo di narrazioni perché comunque scrivi per il Corriere dello Sport spulciando il profilo Twitter del giornalista si evince come sia un discretissimo tifoso della Roma ma nulla di male assolutamente però poi se si iniziano a costruire certe storielle soprattutto col rischio che potenzialmente no? si potrebbe parlare anche di mobbing qualora quelle storielle fossero vere il club che si sente anche in un qualche modo tra virgolette accusato di questa roba ci può stare che decida di rispondere nel merito di queste cose incredibile come un giornalista non sia andato neanche a cercare il regolamento per quanto riguarda il numero di presenze che un giocatore può fare o meno per poi tornare o meno in next gen ma ormai appunto come detto prima il livello del giornalismo sportivo italiano è talmente basso che queste robe stupiscono anche proprio fino a una certa sinceramente e quindi dai è un pochino triste quantomeno permettetemi di dire che il tutto è quantomeno un tantinino triste però ecco io poi certo spero che piuttosto vada in Premier League anche perché la situazione è legata alla Roma ma bella che stufati i maroni allo stesso tempo sappiamo che se ti arrivano quei 30 milioni garantiti certi va alla Roma però non è che poi bisogna tirar su le storielle narniesche per raccontare un certo tipo di narrazione attorno all'operazione se tiri fuori quei 30 milioni sulle stasera stasera eh neanche domani stasera è già Trigoria e domattina fa le visite se quei milioni non li tiri fuori poi ha voglia a fare articoli su articoli e creare narrazioni su narrazioni la cifra è quella punto e chissà a questo punto se il giocatore è stato portato in Germania non tanto non tanto perché fa parte del progetto va perché si aspettava il momento giusto per prenderlo in disparte e fargli del mobbing o accetti la Premier League o vai in next gen non puoi hai più di 50 presenze di Serie A fa lo stesso fa lo stesso un modo lo troviamo un modo lo troviamo Narnia semplicemente Narnia voi ragazzuoli fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve